Una manovra a rischio di incostituzionalità, perché intacca il principio del collegamento diretto fra le funzioni conferite alle Regioni e le risorse necessarie per il loro esercizio. Le Regioni lo scrivono nero su bianco nel documento approvato all'unanimità e il Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, lo esemplifica durante la conferenza stampa, convocata per sottolineare l'impatto che il provvedimento economico varato dal Governo avrà. Con un terzo in meno di trasferimenti per il trasporto pubblico locale, spiega il Governatore, le Regioni che hanno contratti, ad esempio con Trenitalia, si troveranno il giorno dopo con un possibile taglio di un terzo dei treni da parte della società, che probabilmente licenzierà un terzo del personale, decidendo magari di fare causa alla Regione e vincendola. Per non parlare dei fondi per la famiglia, integralmente spazzati via, 130 milioni di euro, prosegue Formigoni nell'esempio, non era una grande cosa, ma questo taglio è un pessimo segnale. E al danno, aggiunge, si unisce anche la beffa. Vengono tolti i finanziamenti per esercitare le funzioni, ma non ci vengono tolte le funzioni. C'è un rischio di incostituzionalità.